E' la scala di consegnare i diplomi. Benissimo ragazzi, allora adesso io vi chiamo uno a uno se volete venire qua e così ritirate il vostro diploma di attestazione e frequentazione di questo bellissimo progetto. Allora comincerei con i clarinetti. Innanzitutto vorrei fare un complimento ai maestri che hanno seguito la sezione dei clarinetti, l'insegnante è stata la maestra Simona Caligiuri e il masterclass è stato affettuato da Giuseppe Salgo, primo clarinetto della banda della Polizia di Stato di Roma. Quindi adesso vi accingo a chiamarvi. Cogno Valentina Cairone Cristino Antonucci Giuseppe Bogliolo Fabrizio Orlino Davide